Allora, prima lezione dell'anno di filosofia e partiamo subito da due domande fondamentali. La prima, che cos'è la filosofia? E la seconda, perché fare filosofia? E la seconda, perché fare filosofia, ne contiene come sviluppo un'altra, se serve o meno, la filosofia. Perché fare filosofia? Che cos'è la filosofia? Partiamo dal che cos'è la filosofia. Ovviamente questa domanda è estremamente complessa, articolata, è difficilissimo dare una definizione. Partiamo dall'etimologia. Che cos'è la filosofia? La filosofia vuol dire amore per la sapienza. Provetti che hai già una definizione molto impegnativa. Perché io dovrei avere amore per la sapienza? Perché io dovrei provare amore per la sapienza? Potrei tranquillamente vivere senza provare amore per la sapienza, anzi addirittura essere avverso la sapienza, voler essere ignorante, voler non sapere, non conoscere. Dunque dire che amore per la conoscenza è significativo, ma al contempo pieno di problemi. Perché vuol dire tutto, vuol dire niente, amore. Un amore di chi verso la sapienza? Di tutti gli uomini, vale per tutti gli uomini, vale per alcuni. È uno sfoggio di cultura. Io potrei vivere tranquillamente senza sapere. E se invece non amo la conoscenza? Però dobbiamo partire da lì. Filosofia vuol dire sofia, sapienza, va bene, sapere e filo, appunto, filos, amore, tensione verso. La filosofia è dunque un atteggiamento di tensione, di slancio verso il sapere. Dunque la filosofia è già qualcosa di dinamico. Perché quando io amo mi muovo verso l'oggetto amato, va bene? E dunque filantropia, io ho l'amore verso l'umanità, allora nell'atteggiamento classico farò carità, farò volontariato, e sono predisposto a volere bene agli altri o fare qualcosa per gli altri. Vabbè, il filantropo. Dunque la filosofia, che è amore per la conoscenza, per la sapienza, implica un atteggiamento di amore. Quando voi siete innamorati di qualcosa andate incontro a questa cosa. Se amate il cioccolato, andate a comprare il cioccolato, aprite la credenza di casa, prendete la Nutella, se siete innamorati di una persona, andate all'intervallo a trovarla. Se non mi siete ancora dichiarati, andate a cercarla, osservarla, a guardarla. E' chiaro. Dunque l'amore implica movimento. Uno va verso la cosa amata. Poi la cosa amata può essere una cosa che non ci corrisponde, può essere un errore, c'è un amore per caso, può essere passeggero, può iniziare a finire in un baleno, può durare per sempre. Ma di fatto amare vuol dire andare verso, significa movimento, simile a una sorta di freccia che voi scagliate. In un caso che Cupido, appunto, la divinità dell'amore, Eros, è simboleggiato da una sorta di angioletto, comunque, che lancia una freccia. Perché l'amore travolge, sconvolge, coinvolge il movimento. La filosofia, dunque, è una cosa di dinamico, rivolto al conoscere, al sapere. Ovviamente, detto questo, che l'amore per la sapienza, dobbiamo dire che è anche una disciplina, ovviamente, una disciplina antichissima. Probabilmente dopo la poesia è la disciplina più antica. Prima ci furono i poeti, i sacerdoti, i poeti, la religione e la poesia sono le discipline più antiche. Ok? Il fare poesia, il cantare, l'amore, l'odio, la guerra, la natura, la paura. Ok? O cercare il divino, i sacerdoti, o il sapere poetico-religioso che si fondono. Sacerdote-poeta, poeta-sacerdote. Ma dopo il poeta, dopo il sacerdote, dopo il cantore in versi della natura e del mondo, sorge il filosofo. E chi è il filosofo? E' colui che ama la conoscenza, va bene, chiama il sapere, va bene, ma è colui che usa la ragione. E l'uso della ragione è l'elemento centrale della filosofia, dell'essere filosofo, del fare filosofia. Dunque la filosofia è l'amore per la conoscenza, amore per la conoscenza che viene condotto attraverso l'uso della ragione. Un uso di che tipo? Dinamico, critico, un uso curioso. Cioè la ragione appunto è mossa da curiosità. Cioè l'uomo neumai dato di ragione, curioso, va alla ricerca di risposte. Va alla ricerca di risposte rispetto chiaramente delle grandi domande. La filosofia è amore per la sapienza, è dinamismo, è utilizzo della ragione. La filosofia non è solo credenza, la filosofia non è poesia, la filosofia non è solo mito, la filosofia non è religione. La filosofia partirà da grandi domande tipiche della religione, tipiche dei miti, partirà da grandi questioni che Omero ha sollevato nell'Iede e nell'Odissea, partirà da grandi questioni sollevate anche dai tragediografi. Dunque si parte dalla dimensione epica e mitica, ma poi si procede attraverso l'uso della ragione. Chiaro, questo è un aspetto fondamentale. Allora vediamo alcune caratteristiche della filosofia. Love is, un tempo, messaggini, cos'è l'amore, l'amore è, e vado avanti. La filosofia è, filosofi is, cosa possiamo dire? Uno, la filosofia, che etimologicamente significa amore per la sapienza, è innanzitutto problematicità. La filosofia è porsi dei problemi, sollevare dei problemi, porsi dei quesiti. La filosofia è individuare dei problemi e ragazzi, ragazzi, è una competenza. Chi di voi non pone problemi, chi di voi non pone quesiti, è perché è una condizione di scarso atteggiamento filosofico, è passivo rispetto alla vita. Quando tu sei attivo verso la vita ti poni delle domande, che può essere perché il mattino mi sveglio, perché vengo a scuola, che cosa è la felicità, il senso della vita, esiste Dio, che cosa è l'intelligenza, esiste un'intelligenza artificiale che soppianterà quella umana. Le grandi problematicità, è giusto l'eutanasia, è giusto l'aborto, che cosa significa abortire, che cosa significa dolce morte, le domande nel tempo. L'uomo è un animale che si pone domande, che si pone problemi, che si pone quesiti. Poi le domande cambiano nel tempo, alcune rimangono sempre le stesse. Quel senso ultimo della vita è una domanda che attraversa i millenni. Esiste Dio, è una domanda che attraversa i millenni. Anche in presenza di grandi rivoluzioni scoperte scientifiche, alcuni uomini continuano a porsi la domanda sull'assoluto, sul divino. È chiaro? Esiste l'anima, che cos'è l'anima? Che cos'è la felicità? Quando uno è stato è giusto, cos'è la giustizia? Va bene? Che cos'è la felicità? La felicità è felicità individuale o felicità collettiva. Ma si può essere felicità individualmente in una società che invece è infelice collettivamente? Sono domande. È chiaro? La filosofia è problematicità, è sollevare domande. Sollevano domande le persone curiosi, critiche, intelligenti. È chiaro? Altrimenti gli altri obbediscono, le altre persone eseguono. La filosofia non è la disciplina dell'esecutore, la filosofia è la disciplina del curioso, di colui che sa porsi delle domande. E vi ripeto, la filosofia è domanda, non è mai risposta. Un uomo lo si valuta, detto che nessuno, poi valuta nessuno in maniera definitiva, però dovessimo immaginare di dare un giudizio parziale, passeggero ad un uomo, potremmo dire, guarda, quest'uomo qua sa porre delle domande, ha un valore perché sa porsi delle domande. Perché l'uomo che non si pone domande, dicevo, tendenzialmente è passivo ed è spettatore rispetto alla vita. Essere spettatore rispetto alla vita è un'altra modalità di vita. Noi possiamo, chi dice, di vivere da spettatore rispetto alla vita. La vita scorre davanti a me, come un fiume, come un film, come una rappresa teatrale. Io assisto, oppure io interagisco con la vita ponendomi delle domande. E una volta che mi pongo delle domande andrò alla ricerca delle risposte. E le risposte mi chiederò poi, sono vere? E mi chiedono se sono vere e mi porrò un'altra domanda, se la verità esiste. Dunque le domande innescono una dimensione di scatole cinesi. Domanda che ti porta a cercare delle risposte, ma risposte innescono nuove domande, che innescono nuove risposte, che innescono nuove domande. La filosofia è problematicità e capacità di porsi delle domande. Ok? Uno. Due. La filosofia è ricerca. Dicevo prima. La filosofia è un motore, ragazzi. La filosofia è un motore. La filosofia, poiché nasce dai problemi, e i problemi sono nati dalla meraviglia, Aristotele ci dirà nella sua opera, capolavoro, la metafisica, che la filosofia nasce dalla meraviglia e lo stupore di fronte al mondo. Se noi non ci stupiamo rispetto al mondo, siamo, diciamo prima, passivi. Una volta che ci stupiamo di fronte al mondo, ci poniamo delle domande, ma il secondo step è la ricerca. L'uomo come animale che si meraviglia inizia una ricerca. La ricerca è utile a viaggiare. Chi è che non viaggia? Non viaggia chi non è curioso, o chi purtroppo, e vale per noi adulti sempre meno curiosi, chi è un po' logoro. Spesso viaggiano di meno le persone anziane, sia fisicamente che con la mente e con l'anima, perché magari sono un po' stanco, un po' logore. Oppure non viaggiano le nuove generazioni perché non sono curiosi, perché tutto quello che hanno attorno, apparentemente, realmente è sufficiente. O non vi ponete domande. Chiaro che una generazione che non si pone delle domande, non si pone dei problemi, è destinata a essere soppiantata da altre generazioni, da altre ragazze e ragazze che si pongono delle domande. Perché la passività fa sì che saranno alti a scrivere la vita, ok? Vuoi dire che tu al massimo sei una comparsa. Dunque la ricerca è figlia della curiosità, ok? È figlia della curiosità. Guardi, io il viaggio me lo costruisco io, ma guardi, mi prendo questo pacchetto vacanza, l'ha fatto un altro. Beh, ho già la curiosità, voglio andare in quel paese, voglio visitare quella città, mi scelgo un pacchetto vacanza già fatto, me lo costruisco io. E' chiaro, c'è una curiosità in tutte e due, c'è una ricerca diversa. Uno si affida a una ricerca fatta da altri, oppure io me la faccio da me. Farsi la propria ricerca non vuol dire che di colpo io divento l'esperto di ingegneria biomolecolare, va bene? Vuole dire semplicemente che ho di vaccini o di medicinali, che inizio a ricercare, confrontando opinioni, tesi, una verità, o quello che io penso possa essere una verità. Ma devo andare chiaramente ad informarmi e affidarmi a qualcuno, ma devo andare a ricercare qualcuno che io penso almeno possa essere credibile. Perché altrimenti la ricerca è poi infondata. Cioè, è una ricerca razionale, non è una ricerca tanto emotiva. Nella filosofia c'è emozionalità, ma l'emozione è comunque un elemento che fiancheggia, e dunque in parte secondario, la dimensione razionale. Perché quando anche io studio le emozioni, lo studio razionalmente, lo studio eventualmente scientifico delle emozioni, è chiaro? Dunque ricerca. Infatti il filosofo è il ricercatore, il curioso che si mette a, potremmo dire, entra in un bosco, che non conosce, che è pieno appunto di ombre, di oscurità, che nessuno ha mai visitato. È dunque un viaggio spesso periglioso. Periglioso. Un viaggio periglioso perché? Perché è come giocare a un gioco nuovo di cui non conosce, ovviamente, le regole, le strategie. Ti devi buttare a un certo punto alla ricerca di qualcosa che tu profondamente non conosci. Dunque ricerca. Ci aggiungo e passo al terzo punto. Una ricerca continua. Cioè, una ricerca continua. La ricerca non ha mai fine. Socrate, non è un giallo, pertanto posso anticiparvi che morirà, voi leggerete l'apologia di Socrate, che il processo Socrate, prima di andare via, verso la cicuta, verso dunque la morte, dirà, ribadirà con forza, che una vita senza ricerca non è di essere vissuta e invitava, invita i giudici, i magistrati, gli adulti a monitorare, controllare i propri figli affinché vivano nella ricerca e non si adagino nella apparenza della vita, semplicemente delle cose, delle cose materiali o delle glorie vane. La vita è ricerca e ricerca continua. Per Socrate e per Platone, due dei più grandi filosofi dell'antichità, la vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Dunque il sale della vita sta nella ricerca, il succo della vita sta nella ricerca. Tre. Che cos'è la filosofia? La filosofia è criticità e critica. La filosofia è saper criticare. Io continuo a ripetere ai miei studenti questo. Fare filosofia è possedere uno strumento degli attrezzi, una cassetta degli attrezzi, degli strumenti, va bene? In grado di poter criticare, cioè giudicare, comprendere la realtà. La filosofia deve portarci a criticare la realtà, a criticare ciò che è. Ma criticare vuol dire capirne la veridicità, la falsità, il funzionamento, capire la realtà. Detto che poi la verità ultima probabilmente non esisterà, ma di sicuro esisteranno delle falsità, delle cose che non sono vere in ambito matematico, scientifico, geometrico, forse anche in ambito morale. Non lo so. Ci sono i grandi problemi, no? Io devo cominciare a usare la ragione in maniera critica, e la filosofia è l'esercizio di ragione critica, per giudicare la realtà. Dunque io debbo, debbo, con spirito critico, stimolare un dibattito, un dibattito. Ragazzi, voi, ragazze, discutete e dibattete sempre di meno. Il dibattito, il discute, non è il chiacchiericcio. È chiaro? Che è divertente, che è giusto che ci sia. Ma noi scambiamo spesso il dibattito per quei momenti di discussione che ci sono all'interno dei format, quali, non so, i talent o i reality. Quello non è il dibattito. È chiaro? Il dibattito vuol dire argomentare, vuol dire criticare, vuol dire giudicare, andare alla ricerca della verità. Dibattere vuol dire dare una priorità di discussione. Chiaro vuol dire trovare un tema attorno cui vale anche la pena di dibattere, perché quello è un tema che è fondamentale per vivere. Io penso che, ad esempio, la felicità sia un tema ineludibile. Non possiamo rinunciare ad essere felici. Se a voi dicessero, non sarai mai felice, vuoi continuare a vivere? Non lo so, cioè se io con la palla di vetro riesco a dire, uno, due, tre, che mai toccheranno la felicità, è dunque un'ipotesi assurda che non esiste la palla di vetro. Io non so che stimola la vita questa persona possa ancora avere. Dunque la felicità, se cosa significa essere felice, dovrebbe essere un tema fondamentale. È criticare la realtà per trovare, ad esempio, il senso del mio essere nella realtà. Io sono nel mondo, sono in una vita, sono in un corpo. Cosa ci faccio in questa vita, in questo corpo? Il senso della vita è la felicità o non la felicità. E l'amicizia? Sì, da arrivare ai temi, chiaramente, dell'amore, tutti i grandi temi che hanno a che fare con la nostra vita. E tutto non si esaurisce nella matematica, che è indispensabile, perché tra la sua matematica abbiamo avuto l'esuppo delle scienze, della medicina, dell'astronomia. Dunque la matematica e le applicazioni della matematica migliorano concretamente la vita. Non si può essere felici, forse, senza il progresso medico e matematico, perché almeno mi garantiscono di essere vivo. Ma poi non basta da quello, perché scatto la domanda filosofica. Va bene? Dunque criticare vuol dire appunto sottoporre a giudizio, ad analisi, la realtà. E tra le realtà la nostra vita. La nostra vita. Ovviamente, ragazzi, ragazzi, capite la pericolosità anche della filosofia, perché se io sottopongo a critica la vita e mi accorgo che il senso non lo trovo, la felicità non c'è, che l'amor che sto vivendo non è... È chiaro che il rischio di mandare in tilt la mia vita. Dunque la filosofia è agli antipi del dire sentisi. Non farti troppe domande. Lì ci sono delle ghiande. Mangia, va bene, lì c'è un bagno. Vai di corpo, alzati. Ed è anche questa una filosofia di vita, ovviamente, che rifiuta la filosofia come critica. Perché se poi diventa un ultracritico, rischio la paralisi. Io talmente critico, cioè cerco di giudicare, di trovare un senso delle cose, tutto, che a un certo punto non fumo più. Perché sono sempre da chiedermi il perché delle cose, il perché delle cose, il perché delle cose. Va bene? Quattro. La filosofia cos'è? La filosofia è argomentare. Argomentare tesi e affermazioni. Io ci proverò durante l'anno, perché noi viviamo in un mondo che sta quasi rinunciando all'argomentazione, in cui noi affermiamo, quasi in maniera podittica, affermiamo senza dimostrare nulla, senza argomentare nulla. Senza argomentare nulla. È chiaro? E in questa dimensione, ecco che le fake news possono veramente proliferare. È chiaro? Perché se tanto basta enunciare, per cui un enunciato diventa verità, è chiaro che ogni enunciato, a quel punto lì, è vero e valido. Invece bisogna argomentare. E poi esistono argomentazioni diverse. Io posso argomentare l'esistenza di Dio, la non esistenza di Dio. Poi a un certo punto ci accorgeremo che argomentarla razionalmente è praticamente impossibile. Allora l'argomento emotivamente. L'argomentoro con un atto di fede. Posso argomentare le virtù della democrazia, o argomentare la decadenza e i vizi della democrazia. Cosa che proveremo a fare? Scrivete dieci durante l'anno, dieci virtù della democrazia e dieci vizi. Ok? Posso argomentare la bellezza dell'essere singolo, dell'essere in coppia, dell'amore come prigione, dell'amore come felicità. Argomentare. Poi ognuno chiaramente propenderà, sceglierà. Poi ci sono delle cose, soprattutto in ambito eventualmente medico-scientifico, in cui bisogna cercare di arrivare a delle argomentazioni forti, e magari anche vere e valide per tutti. Detto che questo è il tema più spinoso, lo vedete, il tema più spinoso alla fine. Perché in campo poi medico ci sono delle verità che prendiamo chiaramente per vere, perché ci sono argomentate o supportate da dimostrazioni scientifiche o che non capiamo, ma che pensiamo siano vere perché ci fidiamo, o altre cose che invece non vogliamo accettare. qua quando deve intervenire un psicofarmaco? Quando? A che età può intervenire un psicofarmaco? Posizioni diverse che cambiano anche nel tempo. Quando sei infelice o sei depresso? Quando sei sempre un bambino vivace o sei un bambino che ha già delle devianze per cui? Qua ci sono tesi completamente agli antipodi, è chiaro? Noi tendenzialmente stiamo quasi scambiando l'infelicità per depressione. La depressione è una malattia, ma è più difficile da decodificare di altre malattie. Ma forse quando sei depresso senza forza i psicofarmaci possono essere utili. Altri invece dicono no, psicofarmaci mai. Altri diranno guarda che hai scambiato la depressione per l'infelicità. Sono tutti temi complessi in cui servono degli esperti. Non ci possiamo improvvisare psicoanalisti, psicologi. Poi dopo possiamo essere liberi di dire la psicoanalisi non è una scienza medica, io non ci credo, io non vado. Punto. È chiaro? Però dovremmo avere delle competenze. Non è che ci mettiamo in rete a discutere come fossimo degli oncologi. È chiaro, il tumore richiederà un livello di argomentazione che forse non si discute su quel tipo di malattia e di cura che noi non possediamo. Poi possiamo però immaginare come alcuni fanno che ci sia sempre un complotto che tutti gli oncologi, che tutti i viroli, tutti i suoi medici abbiano richiesto un complotto contro di noi per portarci a curarci in quel modo, vaccinarci in quel modo. Possiamo crederci, ovviamente, è chiaro? Però di sicuro quando argomentiamo dobbiamo andare ad informarci e poi magari partire dal presupposto che qualcuno ne sappia qualcosa più di noi. E se voglio andare a argomentare qui devo andare su settori in cui probabilmente non è solo niente. Io non mi metto a parlare ragazzi di ingegneria edile. È chiaro, proprio voglio informare. ma tutti sanno come ricostruire il ponte di Genova. Tutti sui social ed è una libertà, io li difendo. Tutti dicono la propria, io lo farei così, cos'ha? Dopodiché, io non... Saudino, ha fatto una bella lezione di filosofia o l'ha fatta brutta? Non lo so. Facciamogli costruire il ponte di Genova. Ma no, perché servirà poi una competenza che è fatta di scienza e di argomentazioni, chiuso a matematica, ingegneristica, architettonica che uno non possiede o possiede. È chiaro? Dunque, argomentare anche in base, ovviamente, al quanto si è studiato e quanto si è competente. Dopodiché, uno può provare a argomentare di tutto. Però, ovviamente, ci sono dei settori in cui argomentare è difficile perché saranno delle conoscenze che una persona non ha. È chiaro? È difficile che possa argomentare. È chiaro? Però la filosofia è argomentazione. Dio c'è. Perché? Lo stato giusto è la dittatura, la tiranide, la monarchia. Io voglio che lo Stato garantisca la tortura. Io voglio l'abolizione della piazza di morte, della tortura. Per me le donne non devono essere degli uomini. Per me è meglio votare 18, 24, argomentiamo. Perché è meglio abbassare il voto a 16 o lo alziamo a 24? Facciamo votare soltanto quelli che sono laureati, diploma. Argomentate le vostre tesi. È chiaro? Dopodiché, nel dibattito, si deve morire in maniera naturale. Dunque, nessuna eutanasia si deve soffrire fino all'ultimo e così vuole la natura. Allora ti dico, allora la natura vuole che il tuo cuore si stia fermando, dunque non farai anche un trapianto di cuore. Perché? Se tu mi dici che bisogna sempre sul corso della natura, il tuo cuore è ammalato. Un trapianto di cuore è andare contro la natura del tuo cuore. E l'altra idea è no, perché in realtà lì io posso intervenire e non è contro natura, ma io aiuto la natura perché naturalmente sarebbe vivere ancora 45-50 anni, dunque il cuore è malato, io naturalmente lo continuo a fare. eh no, però io ho fatto un impianto artificiale e li discutiamo, capite? Ma non si può dire è così perché è così. La filosofia è argomentazione. Cinque siamo? Cinque. La filosofia è dialogo. Dialogos. È dialogo razionale. La filosofia è dialogo finalizzato al confronto e alla ricerca di una verità. Verità condivisa, verità da ridiscutere. Non si può dialogare se chiaramente si pensa di possedere la verità. E voi dovreste essere nell'età del dialogo. Ma ripeto, dialogare implica voglia di mettersi in discussione, saper fare delle domande. Certo che se, ovviamente, state diventando degli autori, dei consumatori, degli invo... Allora non ci poniamo domande, non dialoghiamo, lo spazio non c'è e una colpa c'è alla scuola, ragazzi. Noi non vi facciamo mai discutere. Noi riversiamo dei contenuti su di voi. La scuola è ancora, non in tutti i professori, non in tutte le materie, non sempre, prendere dei contenuti e rovesciarli su di voi. Ed è importante che voi avete queste conoscenze, perché dovete conoscerle. In matematica, in geometria, la grammatica inglese tedesca è quello che fate. Ma poi serve il rielaborare e discutere insieme, perché altrimenti se sono dei ricettori di conoscenze, che poi tra l'altro finiscono spesso nello scantinato, nel dimenticatoio, e non siete capaci di metterle in pratica. E la discussione principale in filosofia è il dialogo. Dialogos vuol dire confronto, che non vuol dire che i filosofi che studieremo anche e che siano tutti così poi aperti al dialogo. Alcuni sono insopportabili, irriverenti, altri sono maniacali, altri sono assolutamente presuntuosi. Però cos'è il bello? Che avendoci lasciato tante teorie, tante ipotesi, tante letture della realtà, noi li facciamo dialogare. Perché noi quest'anno faremo dialogare tanti filosofi perché li confronteremo. E siccome molti filosofi dicono cose diverse, ecco che voi crescerete partendo da posizioni diverse. Guardatevi sempre, non l'avete ancora letto o quando lo leggerete, quando in Fara nel 451 il romanzo o il film, il film di Truffaut, il capo dei pompieri che ha detto a bruciare i libri, a un certo punto chiama Montaghi il protagonista e dice bruciamo questi libri, bruciamo la poesia. La poesia cosa serve? A creare emozioni, instabilità umana. La poesia crea di uomini deboli. E poi va al reparto filosofia. Nel futuro, in questa distopia, i libri si bruciano perché così almeno hai il controllo dei cittadini. Prendi i libri di filosofia e dice il capo dei pompieri bruciamo questi testi. Perché? Perché creano in questo caso dubbi e incertezze. Per qualcuno l'essere è, l'essere non è. Per qualcuno Dio c'è, Dio non c'è. L'anima è mortale o immortale? La democrazia è e non è. C'è quello che vale in un'epoca e non vale in un'altra. Quello che vuole per un autore non vale per gli altri. Crea dunque uomini deboli. La disciplina migliore erano, in realtà non è una critica di queste discipline che si possono fare bene e sono fondamentali, in quel mondo la matematica perché 2 più 2 fa 4 non si discute è educare bene il corpo. Ginnastica, ginnastica, ginnastica. È chiaro? Togliamo le materie che creano dubbi. La filosofia è dialogo e confronto tra autori e tra di voi perché è normale che tra di voi abbiate più e diverse. poi c'è l'altro problema filosofico e chi di voi ha delle idee diverse ma idee magari di morte, violenza, intolleranza è un'idea diversa secondo me stuprare va bene ha un'idea diversa da me ma questa idea l'accettiamo? no perché abbiamo raggiunto una società in cui diciamo che le due idee non devono andare a violentare creare disagio violenta altre persone magari però facciamo la distinzione tra ancora il dirla e il mettere in pratica è un'idea aberrante non dirla più ok? non ti voglio più sentire di questa cosa anche se da lui la penso che sia un problema di sicuro se la metto in pratica scatta un altro tipo ancora di reazione della comunità è chiaro? però se diciamo che è confronto tra idee quali idee decidiamo di censurare? per Platone nella Repubblica gli storpi potevano essere uccisi sia gli handicappati fisici che gli handicappati mentali i disabili fisici i disabili mentali Platone quando scrive? 2300 anni fa oggigiorno l'idea di Platone ma possiamo considerare un'idea che abbia cittadinanza? no è giusto o sbagliato se lei ha questa idea se lui me la può dire mi può dire certo che se noi abbiamo qua in scuola dei disabili dobbiamo avere degli insegnanti di sostegno che costo per lo Stato pagare gli insegnanti di sostegno se i disabili non andassero a scuola lo Stato risparmierebbe è un'argomentazione quella che c'è nella vita è bella anche quando la maestra ha il tavolo al ristorante e dice se per ogni disabili noi spendiamo tono non li faccio su una scuola lo Stato risparmierebbe dunque potrebbe investire i soldi ma va bene questa argomentazione abbiamo deciso che in democrazia si fonda sull'inclusività delle persone diverse e la democrazia non la democrazia la democrazia non la vuole mettere in discussione e dunque un antidemocratico in democrazia può dire di essere antidemocratico ma non può metterlo in pratica e se l'antidemocratico mettessi in pratica l'antidemocrazia non ci sarebbe più la pluralità di opinione è chiaro e ad esempio alcuni autori verrebbero studiati altri autori non verrebbero studiati se la scuola italiana fosse una scuola fascista nazista comunista fosse dello sponsor Nike Adidas San Paolo magari delle cose si dicono delle cose non si dicono se fosse una scuola musulmana ebraica battista possono esserle esserlo se però c'è la garanzia che il loro finanziamento la loro presenza garantisca la pluralità dei tutti vedete quanti problemi mi sto sollevando perché il dialogo implica il dialogo tra diversità il dialogo tra diversità implica ovviamente la tolleranza prima i diritti dopo delle persone che la pensano diversamente nella scuola di Platone che tollerante così non era a un certo punto coloro che lo criticavano andavano fuori Pitagora non sopportava così tanto coloro che lo contraddicevano pertanto la filosofia è nata con dei filosofi che mal sopportavano essere contraddetti però la filosofia è contraddirsi la filosofia serve non contraddizione però quando nasce una contraddizione vuol dire che bisogna andare avanti nel percorso filosofico è chiaro? dunque il dialogo è vitale dove c'è dialogo c'è filosofia dove c'è dialogo c'è filosofia aggiungere ancora uno il sesto la filosofia che cos'è? è una pratica la filosofia non è naftalina la filosofia non è collezionare franco bolli la filosofia non è soltanto una conoscenza della data di nascita di filosofia del pensiero di filosofia la filosofia deve essere una pratica che poi in voi è viva che vorrei vorrei poi difficilissimo perché scuola viaggia in altra direzione vorrei che voi utilizzaste la filosofia poi per parlare per argomentare per essere curiosi per vivere in un certo modo i punti sopra curiosità meraviglia ricerca argomentare dialogare diventa la filosofia una pratica la filosofia è uno stare al mondo poi è chiaro tutto questo non vi ho detto che il filosofo né un santo né un supereroe è uno modo di stare al mondo e noi quando stiamo al mondo essendo essere limitati a volte non dialogheremo a volte non ci meraviglieremo a volte non sapremmo essere critici a volte saremo irascibili a volte non useremo la ragione perché l'idea anche dell'uomo razionale è un'idea poi anche un po' mitizzata dal filosofo secondo gli antichi la ragione è la nostra guida io ancora un po' sono figlio di questa idea io ho dei momenti di ultra razionalismo è chiaro cioè io alla fine dico è la ragione a cui mi devo appellare per trovare un senso alla vita un senso allo stato insieme all'organizzazione però è un limite perché l'uomo è poi anche in gran parte emozione emotività passione cuore però è chiaro che costruire la convivenza i percorsi collettivi sulle passioni richiede chiaramente uno sforzo ulteriore e lì la filosofia deve veramente come è accaduto ampliarsi e andare verso altre discipline perché cosa è la filosofia la filosofia è la nonna di tutte le discipline poesia religione ve l'ho detto poi c'è la filosofia e i filosofi erano matematici astronomi esperti di politica di etica di linguaggio di scienze di biologia Aristotele Platone dunque dalla filosofia in mezzo di un albero a partire dalla Grecia poi da Roma e poi il medioevo rinascimento umanesimo si staccano meglio si diramano rami dalla filosofia nasce la matematica la fisica l'astronomia avanti poi la chimica e poi la sociologia l'antropologia la biologia la psicologia la psicanalisi tutte discipline anticamente con tutta la filosofia quando faremo l'anima per Platone e Aristotele molti di voi diranno ma queste sembrano la psicologia si a parte che anima vuol dire psiche pensavano già che l'anima fosse divisa la mente però l'anima avesse una parte razionale una parte emotiva e che la parte emozionale influenzasse il nostro comportamento è chiaro e cercavano una soluzione per dominare l'emozione quando noi prendiamo uno psicofarmaco noi ingeriamo gli elementi chimici che vanno a lavorare sulla nostra emozione sono sociopatico agorafobico cioè non so stare in mezzo agli altri voglio in affanno e sono in mezzo a spazi grandi vuoti e mi agito c'è una pastiglia ci sarà una cura anche chimica che mi placa quella fobia è chiaro? mi agito tentenno entro in crisi ok svengo arrossisco a carte io si metteva lì già a dire sono tutte affezioni dell'anima come governarle come contemplarle e questo è un po' che cosa la filosofia veniamo qui ci faccio la pausa ovviamente di 5 minuti buona al perché fare filosofia forse queste definizioni contengono già il perché fare filosofia però secondo me dobbiamo un attimo un attimo puntualizzare alcune cose e per questo vi ho lasciato quel plico di testi vi dico alcune cose su questi testi poi voi ci fate quel lavoro partiamo da Nagel ok autore americano il brano che vi ho dato è tratto dall'opera una brevissima introduzione alla filosofia cosa ci dice Nagel ci dice questo la filosofia serve perché ci aiuta a conoscere meglio chi siamo noi e che cos'è il mondo chi siamo noi e che cos'è il mondo in cui noi siamo cioè ragazzi ragazzi voi non siete nella società medievale patriarcale prego si scrive Nagel ok Thomas Nagel chi siete aiuta a capire chi siamo l'obiettivo è conosci te stesso lo sosteneva già un grande uomo che si chiamava Socrate quello è l'obiettivo della filosofia capire chi siamo conoscerci meglio chi siamo cosa vogliamo dalla nostra vita dalla nostra vita dove voi siete in un mondo che si chiama Torino Piemonte Italia occidentale Italia del nord Europa si chiama pianeta terra ok si chiama ventunesimo secolo gli inizi si chiama mondo informatico tecnologico che cosa è il mondo e chi siamo noi nel mondo quando una nostra azione è giusta o sbagliata devo capire chi siamo e cosa vogliamo è chiaro per capire cosa vuole cosa vuoi fare tu mi scelta il tuo nome Gaia cosa vuoi fare da grande cosa vuoi fare della tua vita per capire questo devi capire chi sei conoscerti e conoscere il mondo in cui tu declinerai il chi sei è chiaro dunque la filosofia è già una aprire le finestre su noi stessi e sul mondo è chiaro prima risposta a cosa serve la filosofia a conoscerci e a conoscerci nel mondo perché la condizione umana non è essere remiti uno due secondo brano il brano di Bencivenga molto bello questo brano ok che cos'è la filosofia Bencivenga ok Bencivenga filosofo italiano secondo Bencivenga il secondo brano che vi ho dato la filosofia come strumento di liberazione la filosofia è gioco scusate bene gioco è una parola che ha molti significati ci accorgiamo che la parola gioco ha una ricchezza semantica ampia gioco gioco può avere a che fare con uno strumento o quando si recita una parte il significato che considero fondamentale è quello più nascosto meno ovvio il gioco è avere ipotizzare delle vite che in realtà noi non stiamo vivendo la filosofia come gioco vuol dire immaginarsi delle vite alternative la filosofia serve a sviluppare fantasia serve a sviluppare il ragionamento ipotetico la filosofia gioca la filosofia ok deve essere una disciplina che ci porta ad ipotizzare anche esistenze alternative e noi in maniera paziente proviamo a studiarle a capirle come potrei essere io come potrebbe essere il mondo ipotesi io devo giocare con la realtà non conoscerla qua io gioco per conoscermi meglio io gioco con la realtà per conoscere meglio la realtà io gioco con me stesso per conoscere meglio me stesso vi faccio ancora alcun esempio cosa intende ben ci venga per giocare giocare ok significa in questo caso anche in parte alterare la realtà e noi stessi significa giocare immaginare come potrebbe essere diverso il mondo e come potremmo essere diversamente noi allora io arrivo qua domanda Gaia, Alice Alessia eccetera eccetera se voi prossimamente doveste rimanere incinta cosa fareste non è un'ipotesi della irrealità ma è un'ipotesi della realtà perché potrebbe cadere ma è un'ipotesi discutendo ragionando di questa ipotesi realtà alternativa voi alla fine vi conoscereste meglio perché voi dovreste cominciare a ragionare su un voi è un'ipotetica maternità è un'ipotetica rapporto con un ragazzo con cui avete fatto l'amore voi ragionando sul cosa fareste alla fine vi conoscereste meglio il tuo fidanzato la tua fidanzata ti ha tradito lo lascio immediatamente io dico sempre a tutte rallentiamo proviamo a discutere e a metterci dentro tante variabili noi mettendoci tante variabili costruire una realtà che adesso non c'è spero per voi ok ma che potrebbe esserci e io provando ad affrontarla capisco meglio che io sono chi io sia chi io sono in realtà perché magari mi accorgo mamma io in classe ho detto delle cose terribili ma sono veramente così violenta no fammi pensare un attimo voglio ragionarci è chiaro ragazzi ragazzi cioè ma se io vivessi in un mondo in cui non c'è la libertà siamo tutti in cui già viviamo c'è solo il problema immaginare un'altra scuola potremmo dire non mi piacerebbe mi piacerebbe guarda io immaginando un Giordano Bruno diverso da com'è ho capito che io vorrei questo modello di istruzione se noi proviamo a trasformare la realtà e a calarci dentro e immergerci noi ci conosciamo meglio perché la fantasia e l'ipotesi sono strumenti di liberazione perché alla fine voi potreste dire ma io sto vivendo una vita che non voglio vivere perché immaginando un'altra vita mi sono accorto che vorrei quella ma io mi sto comportando in un modo che in realtà non mi piace vorrei cambiare ecco perché è uno strumento di liberazione perché immaginando mondi diversi immaginandovi persone diverse potreste avere quella balzana liberatoria rivoluzionaria idea un giorno di cambiare voi stessi e di cambiare la realtà ecco perché la filosofia e la disciplina che vi ho detto spesso vuole essere manipolata controllata e non lasciata in maniera libera Savater terzo brano Savater Ferdinando Savater filosofo spagnolo l'opera è le domande della vita che cos'è la filosofia la filosofia è ineludibile torno al titolo perché perché l'uomo è un animale che si pone delle domande e pertanto vivere per Savater vuol dire fare filosofia poiché vivere vuol dire fare domande e poiché fare domande è fare filosofia vivere significa fare filosofia vivere una pratica filosofica perché quando ti interroghi vi ripeto sulla malattia sulla morte sul senso della vita tu sei filosofo non hai scritto un trato di filosofia ma chi se ne frega ok non hai composto un'opera filosofica ma hai un atteggiamento filosofico dunque la filosofia è tipicamente umana perché l'uomo è un animale che si fa domande è un animale che si fa delle domande salto un autore vado ad un altro perché il tempo è poco Remo Bodei filosofo italiano molto 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 interessante questo brano che cos'è fare filosofia? fare filosofia è prendere i pensieri che abbiamo congelato nel freezer il congelatore aveva accumulato tanto cibo già per il futuro poi siamo dimenticati che questo cibo c'è secondo Bodei fare filosofia è scongelare i pensieri è scongelare i pensieri portare fuori quel cibo che ho accumulato nel congelatore nel freezer fare filosofia è immagino bellissima togliere opacità alla vita io ragazzi ogni volta che poi introduco la filosofia mi ando conto che siete voi è il futuro perché noi invecchiando poi c'è chi invecchia molto meglio perché quando sentivo Margrethe Hack grande astrofisica ancora prima di morire ok lei aveva gli occhi luminosi quando parlava di insegnare ai ragazzi di guardare le stelle o meno ma il fuoco dentro deve essere bravo ad averlo perché la vita tende a portare con sé del grigiore dell'opacità il matrimonio che non ha funzionato le bollette il capo ufficio il lavoro perso il vicino di casa mi sono indebitato il lavoro che faccio non mi piace va bene i figli che ho messo al mondo che errori ho fatto sono stanco disillulla la vita porta con sé opacità e porta con sé anche del grigiore la filosofia è vita è fuoco e togliere in parte questo grigiore dice è passione la filosofia è è follia cioè alzarsi il mattino avrà ancora il fuoco dentro è chiaro? fuoco dentro perché? perché c'è qualcosa che vuoi capire c'è qualcosa che vuoi conoscere qui è Platone Remo Bodeo dei massimi studi di Platone per Platone il filosofo è l'innamorato per eccellenza perché ogni mattina si alza e vuole scoprire il mondo il filosofo dunque non invecchia non invecchia ovviamente nell'animo invecchia fisicamente perché se tu ogni giorno hai l'amore per insegnare scoprire ricercare per viaggiare quella vita tu hai voglia di attraversarla e hai voglia di viverla perché ovviamente la bellezza della vita ci direbbe Dostoievski è negli occhi di chi guarda il mondo e la vita la vita non è bella in sé la vita è bella se ci sono degli occhi che sanno vedere le cose belle se vogliono vedere le cose belle la vita presenta l'opacità cioè il grigiore il male la violenza l'inutilità il vuoto sono più forti delle cose belle tu devi allenarti alla bellezza della vita Remo Bodei in questo ve lo fate poi voi è scongelare la vita la filosofia è un esercizio critico ok che ci porta ad argomentare ci porta a scoprire ci porta ad avere stupore ci porterà ovviamente a cercare di vivere in maniera coinvolgente voglio scoprire voglio capire cosa c'è al di là anche dell'apparenza Monaco in Conoscere la filosofia è il sesto brano che vi ho dato ci sono delle domande originarie dice che noi uomini ci facciamo queste domande portano a scrivere a scrivere una sorta di libro della vita ma questi libri hanno sempre delle pagine perdute delle pagine mancanti la filosofia è andare a compilare a scrivere o a ricercare le pagine perdute quelle che mancano Monaco si chiama ok in italiano ci sono sempre delle pagine mancanti ricercare le pagine mancanti della mia vita della vita di Gaia della vita di Lige la vita nostra ha dei buchi ha delle pagine vuote ha delle pagine mancanti perdute la filosofia andare a ricercare quei pezzi che mancano settimo brano Pollastri il pensì Pollastri ci dice Pollastri che la filosofia è un bisogno è un bisogno e sapete che un bisogno qua recupera in parte anche Aristotele è un bisogno proprio perché è inutile rispetto a quello che noi diciamo è utile mangiare bere dormire avere il denaro per sopravvivere la filosofia non ti dà questo e lì diventa indispensabile perché la bellezza della filosofia sta nella sua apparente inutilità pratica ma è invece utile per andare alla ricerca del senso delle cose dunque è inutilmente utile io ho detto la scorsa volta già togliete dalla vostra vita la musica il cinema gli amici non sono i soldi il cibo il mangiare il lavoro sarebbero cose non utili sono le cose per cui voi tendenzialmente vivete a meno che ma sono rari siete l'ultracinismo l'ultra egoismo per cui c'è soltanto la vostra egoica realizzazione ma questi uomini spesso vanno in tilt forse a forza di specchiarsi cadono poi nello stagno nel fiume e affogano cioè diventa difficile immaginare una vita senza la bellezza poi degli altri la ricerca di quello che in apparenza è inutile va bene Massarenti il brano 8 la filosofia non è la verità ma la ricerca della verità Massarenti è il direttore delle pagine culturali o forse di tutto il sole 24 ore Massarenti Massarenti scusate se l'avete a pagina 23 Massarenti che cosa è la filosofia? non è accumulare la verità la filosofia non è oh l'enciclopedia delle scienze a porto di mano io conosco tutta la verità no la filosofia è propensione alla ricerca della verità la filosofia è andare appunto alla ricerca della verità e dunque avere dei dubbi la filosofia è avere dei dubbi perché cosa che mi porta a cercare la verità? il dubbio sul presente su me stesso la filosofia nasce dal dubbio nasce dal dubbio va bene? e poi gli ultimi brani sono dedicati ai greci ma di questo vi parlerò bene la prossima la prossima volta fare filosofia perché fare filosofia significa anche ovviamente partire dai greci interrogare i greci ma non tanto per i greci per rendere omaggio ai greci ma perché i greci ci parlano sono i greci come noi li vediamo ad essere utili sono i greci come noi li interpretiamo dunque il senso della filosofia è anche utilizzare il passato i greci in questo caso per poter avere delle bussole critiche nel presente i greci ad esempio l'ultimo brano appunto è di Settis che ci dice l'archeologo i greci ci impongono una riflessione su noi stessi per cui nel laboratorio di filosofia faremo il mito in Grecia e vedremo anche alcuni racconti mitici vedremo Edipo Re vedremo appunto Medea Antigone perché ma non tanto per rendere omaggio un sapere dunque reverenziale ma perché Medea perché Edipo perché Antigone parlano a noi perché ci possono ancora aiutare a costruirci un'identità sapendo che poi l'identità sono sempre cangianti perché questa è la mia alla fine idea umilmente dopo tutti questi dottori imponenti vi dico la mia la filosofia è secondo me più che mai mutamento la filosofia è essere in grado di cambiare pelle e di mutare accettare la ricchezza dell'essere mutanti io penso che in questa lunghissima lezione scusa abbiate già del materiale per poter iniziare quest'anno insieme